Allora ragazzi, il vero e tu è quasi ufficiale, non al 100% ma quasi Operazione da 2 milioni il prestito per quest'anno, più l'anno prossimo verrà riscattato a 16 milioni Più 2 milioni che potranno essere di bonus in base alla qualificazione alla Champions League o Europa League Con questo acquisto credo che il centrocampo sia completato e andando a escludere eventuali cessioni In attacco bisogna sostituire ancora il Sharawi e serve, oltre a Mancini che è arrivato, un altro centrale difensivo Per me alla fine si andrà a prendere Underwild del Tottenham anche se è partito Il sogno rimane Higuain, però Higuain non è convinto Higuain ha avuto sempre problemi di sovrappeso eccetera eccetera Higuain ha detto, le voci dicono che preferirebbe fare la panchina alla Juve più che venire alla Roma Queste sono scimità perché Higuain ha 31 anni Ok si vuole guadagnare però la differenza di 2 milioni, un milione e mezzo non è tanta Quindi alla fine Higuain vuole essere sicuro che la Roma sia un progetto serio Perché non vuole sprecare gli ultimi 2-3 anni a giocare in una squadra che lotta per il sesto o settimo posto Perciò vuole prima vedere la Roma come completerà la squadra secondo me E soprattutto la questione è legata molto a Dzeko perché se Dzeko non parte Higuain non arriva Soprattutto perché non ci sarebbero i soldi E questo è tutto Seguitemi E mettete follow al canale E lasciate un like se queste notizie vi sono state interessanti Soprattutto perché non ci sarebbe